Allora, ci è mancato davvero poco Alessandro. Pare di sì, 300, quanti erano? Sì, pochissimo. Avevate detto contro? Sì, insomma, in due era un po' un azzardo, però era l'unica cosa da fare, alla fine provare da lontano così e sperando di avere le gambe sufficienti. Alla fine eravamo a filo filo e io ho giocato un po', lui era molto più veloce di me, quindi... Vi siete un po' guardati? Alla fine, insomma, volevo provare a vincere, arrivare a secondo sarebbe stata una gran cosa, ma arrivato a questo punto bisognava giocare per la vittoria, quindi ho dovuto fare quella cosa che forse non ho mai fatto in tutta la carriera, quindi non dare un cambio. Però mi dispiace... Ti dispiace un po' adesso? Ovviamente sì, però... Mi va a correre per vincere. È stata comunque una gara entusiasmante per te? Sì, insomma, era una tappa che poteva essere... Ha dato una fuga e ci abbiamo provato. Ho visto prima che parlavi con Simon, che vi siete detti? Io credo che lui sia più dispiaciuto di me, perché essendo più veloce, sapeva sicuramente di avere più chance di me, però dovevo giocare un po' così e scommettere un po', provare a fargli lanciare la volata lunga e provare a saltarlo, ma alla fine è così, si tratta di secondi. Grazie, grazie.